non ci credo è fatta aslani e il nuovo giocatore dell'inter ragazzi sta per approdare un nuovo pupillo alla corte nera azzurra ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video mi piace per supportarmi lasciatemi l'iscrizione al mio canale ma soprattutto seguitemi su tutti i social già proprio adesso c'è ieri è arrivata l'ufficialità aslani è il nuovo giocatore dell'inter mancano gli ultimi dettagli ed è pronto a vestire la maglia nera azzurra voglio fare un appello io credo che l'inter quest'anno sarà la regina del mercato perché uno in primis manca bremer quindi siamo anch'esso agli ultimi dettagli lukaku ci siamo quasi c'è stato l'incontro e adesso bisogna vedere il prezzo del per il prestito di bala anch'esso è fatta e io voglio dire una cosa quest'anno credo che faremo un grande campionato un bel tridente io lo spero che si realizzerà manca anche bellanova e onano ovviamente è giusto così per rinforzare la squadra l'unica pecca è che dobbiamo cedere un grande giocatore scrignaro dunfris allora io cederei di più devrai sensi vidal pesino sanchez cagliardini e terrei questi punti fondamentali perché ragazzi l'inter deve tornare a vincere lo scudetto deve conquistare quindi lo scudetto scippato quindi dalle mani del milano e purtroppo anche per coppa nostra io credo che marotta sta facendo quindi tutto bene è ancora presto perché a luglio si iniziano le ufficializzazioni e ragazzi quindi dobbiamo stare calmi perché è lunga bisogna dire anche se ci sono i coppi di scena e io ho paura che un big dell'inter se ne andrà quindi quello che vorrei dire è che aslani è un bel corpo bellanova anche è un giovane e l'inter se è un italiano che deve saper fare molto bene come barella bastoni e si parla anche di un arrivo di milenkovich di udogici è stato all'incontro in sede per questo attaccante italiano o meglio scusate questo giocatore italiano dell'udinese e milenkovich che può essere un difensore fondamentale che potremmo andare quindi in panchina io credo che l'inter si sta muovendo bene sul mercato io tengo d'occhio anche a milan ai uendus e lo sguardo anche a napoli però ragazzi per me è ancora presto per giudicare io aspetto le notizie vere le ufficialità io spero che quel dridente arriverà subito all'inter perché schiaccieremo tutti dico in primis ma è ancora presto e niente ragazzi io vi saluto e vi mando quindi un forte abbraccio e ci vediamo prestissimo con due aggiornamenti